Questa mattina San Giorgio di Nogaro si è tenuto il primo incontro alla scoperta della protezione civile che ha visto coinvolti gli studenti delle scuole secondarie dell'istituto comprensivo Università Castrense. L'iniziativa promossa dalla sezione di Palmanova dell'ANA dal comune di San Giorgio e dalla protezione civile della regione Friuli Venezia Giulia si è incentrata sulla conoscenza del soccorso alplino fluviale, sulla spiegazione del sistema delle telecomunicazioni in emergenza sull'impiego dei droni con l'allestimento di un campo base insieme a cinofidi e alpinisti. Oltre a quello di San Giorgio di Nogaro hanno collaborato anche i gruppi comunali di protezione civile di GONAS, Marano Lagunare e Carlino.